L'iniziativa si innesca nella possibilità di utilizzare le risorse pubbliche del piano di sviluppo rurale in direzione di mettere a punto servizi sempre più adeguati a rendere vivibili le condizioni di chi abita le zone rurali del territorio molisano. Nascono da questo assunto alcune scelte di chi governa la regione molise che in effetti stimolano più di qualche perplessità ma che i vertici rimandano ai mittenti autoassolventosi ed anzi valorizzando la bontà delle loro decisioni. Così oggi ci sono 55 comuni che si arricchiscono del giallo degli scuola bus a loro assegnati e che sono stati acquistati proprio in virtù dell'utilizzo dei fondi del PSR 2007-2013 e parte di quelli 2014-2020 attraverso la misura 321 quella relativa ai servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Questa mattina la cerimonia ufficiale a Campobasso all'eliporto dell'Università del Morise alla presenza del rappresentante Unimol, del presidente Frattura, dell'assessore Facciolla, dell'Arcivescovo Brigantini, dei rappresentanti dei comuni assegnatari dello scuola bus e quasi tutti i veicoli gialli a dar luce alla manifestazione. Un punto essenziale è stato così risolto. Si faciliteranno gli spostamenti degli adunni che quotidianamente si regheranno nelle loro scuole, per lo più non in sicurezza. Si eviteranno gli spopolamenti dei nostri comuni e finalmente i giovanissimi potranno tornare a sperare di vivere il loro futuro in una regione che almeno ultimamente li scaccia, negando loro ogni possibilità di lavoro o offrendone uno da precari e sfruttati. Potremmo dire che il futuro per tutti noi molisani è più roseo, ma ormai è ufficiale, stiamo sbagliando colore. Intanto, dopo la cerimonia ufficiale, le truppe si sono spostate all'aula da 160 posti del secondo edificio polifunzionale dell'Università, dove sono stati affrontati negli interventi previsti i temi della sicurezza stradale e naturalmente l'utilizzo efficace delle risorse del PSR di cui abbiamo già abbondantemente detto o forse stradetto.